Doppio wow Sei bellissima, davvero? Sembro una caramella incartata Sta ferma, manca solo un po' di cipria Dottor Trovamore, sono Thea Stilton dell'Eco del Roditore e sono qui per quell'intervista, si ricorda? Ma sì, certamente Allora, mi dica, con voi si trova davvero l'anima gemella? Direi di sì Noi cerchiamo di far incontrare tipi, anzi topi che abbiano gli stessi interessi, le stesse passioni Tutti lavorano troppo, ma è importante riuscire a trovare un po' di tempo da dedicare alla propria vita privata Altrimenti, come si fa a trovare il vero amore? Mi spieghi meglio Salve, sono Thea Stilton con un servizio speciale dalle foreste del Grande Nord dove la squadra Cacioeroi ha raggiunto il record di medaglie vinte in un solo giorno Stai rilevando interruzioni su internet in tutta via Brie? Ok, ho capito Cosa? La rete si è interrotta e subito dopo il tuo computer è andato in tilt Ma che sta succedendo? Niente da fare, G Oh, può far topo, vediamo Oh, che ne dici di quello? Sì, è perfetto Aiutami! Hai qualche altra idea brillante, Geronimo? Ah! Sì, è perfetto Sì, è perfetto